Franz Josef Haydn Capostipite della scuola di Vienna è stato Franz Josef Haydn, grande compositore e didatta. Con lui la musica si è staccata dai canoni barocchi per approcciare quelli dell'età classica e arrivare alle porte del primo romanticismo. Franz Josef nasce nel 1732 a Rhorau, in una famiglia non ricca ma amante della musica. Il papà suona per diletto e il bambino è invogliato a fare altrettanto. A otto anni lo troviamo a Vienna in un coro di voci bianche, dove rimane fino a quando la sua voce non cambia timbro. Senza perdersi d'animo, studia musica e grazie ad essa ottiene i primi lavori. I primi molto modesti, ma poi si presenta l'occasione di entrare al servizio di Nicola Porpora, che a sua volta gli dà lezioni di composizione. Nel 1761 il principe Nicola Esterasi lo vuole con sé a Einstatt. Per trent'anni, Haydn lavora al suo servizio, scrivendo opere teatrali e orchestrali, che hanno ampia risonanza in tutta Europa. Alla morte del nobile viene congedato con una lauta pensione. È il 1790. Dopo un soggiorno fruttuoso e stimolante a Londra, dove compone ben dodici sinfonie, Haydn si trasferisce in pianta stabile a Vienna, dove dà prova delle sue doti di insegnante e compositore. Vengono qui alla luce anche numerose opere sacre. Franz Josef rimane nella capitale austriaca fino al 1809, anno della sua morte. La produzione di Haydn spazia in tutti i generi musicali con risultati eccellenti. Il merito più grande consiste nell'avere organizzato in modo definitivo la forma sonata, basata su due temi e scandita in tre parti. Anche la sinfonia beneficia del suo intervento, volto a specificare i caratteri di quattro movimenti che la compongono, tutto secondo un linguaggio chiaro, fresco e arioso. Sono state scritte da Haydn 107 sinfonie, sonate e concerti per pianoforte e musica da camera. I suoi quartetti e tri coinvolgono gli archi e il pianoforte. Non mancano, come anticipato, importanti lavori per il teatro e musiche sacre, come messe e oratori. L'oratorio più noto è la creazione. Tra le sinfonie di Haydn, la numero 96 è conosciuta erroneamente con il nome di Miracolo. Questo perché si dice che durante la prima rappresentazione si è crollato un lampadario in mezzo alla sala da concerto, ma senza causare morti o feriti. In realtà, però, pare che l'incidente sia accaduto mentre si suonava la numero 102.